Jerry Scotti. La drammatica notizia giunta in redazione pochi minuti fa. Purtroppo sono Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Un colpo inaspettato per Jerry Scotti e i suoi fan. Mediaset ha deciso di non mandare in onda, Io canto, la domenica sera, sostituendolo con la sopopera, Terra Amara. Nonostante l'assenza di commenti ufficiali da parte del conduttore, i vertici di Mediaset hanno difeso la loro scelta. Abbiamo ritenuto fosse la decisione giusta. Afferma un portavoce dell'emittente. Scotti. Noto per il suo stile scherzoso e pragmatico, non ha reagito pubblicamente. Questa decisione segue mesi di speculazioni sulla sua carriera. Inclusi rumors su un possibile passaggio alla Rai. La trama di Terra Amara, si svolge nel passato e segue la struggente storia di Zulia e Ilmaz. Separati da un destino crudele. Lei è una sarta di Istanbul. Lui un umile meccanico. Dopo la morte dei suoi familiari, Ilmaz sperava di realizzare il suo sogno d'amore con Zulia. Ma una realtà feroce minaccia di dividerli per sempre. La data da segnare sul calendario è il 5 novembre. Quando la sopop prenderà il posto del programma di Scotti. Nonostante la delusione per questa decisione improvvisa, i fan sperano che Jerry Scotti faccia presto ritorno sullo schermo. Dimostrando ancora una volta la sua capacità di conquistare il pubblico con il suo carisma unico. Lascia un commento alla fine del video. E seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.